Quinta giornata dell'Iga Chettea, Paninria Sanzio contro Chettea United, partita finita con il risultato di 8 a 4 abbastanza rotondo per favore del Paninria Sanzio, qui con me l'uomo team a Chettea, Fabio Sirna, purtroppo una sconfitta, forse di vario tecnico e tattico si è fatto sentire? Sì, loro hanno giocato molto meglio di noi, soprattutto erano più organizzati al centrocampo, quindi prendevano palla, riuscivano a impostare le azioni molto meglio di noi e arrivano in porta con molta più facilità, noi gli unici di rinporta del primo tempo sono stati dei lanci lunghi oppure delle conclusioni all'assistanza perché non avevamo completamente i meccanismi tra i reparti, quindi giustamente siamo stati in vantaggio e poi hanno meritato di vincere. Hai avuto vita difficile soprattutto con Papa Carlo Alessandro che si muoveva abbastanza bene, ha tanta tecnica e quindi hai avuto difficoltà in fronte alla partita. Sì, a maggior ragione noi che siamo più fisici che tecnici, quando c'è qualcuno così veloce e così tecnico, tenere il passo è più difficile, lui era bravo e quindi ha fatto quello che doveva fare. Diciamo che dobbiamo fare una strigliatina a Mirko Ragusa, insomma il capitano che ogni volta fa queste squadre, non vi mette a vostro agio in campo, vi fa ogni volta arrivare in campo un pochettino così e sfilacciati. No, il problema non è tanto i reparti, il nervosismo, si dovrebbe essere meno nervosi in campo così ci si diretta di più e si riesce anche a giocare meglio, infatti in quei frangenti in cui non c'è nervosismo riusciamo a fare qualcosa, l'abbiamo fatto anche oggi che stavamo quasi per rientrare in partita perché stavamo circa 6-4, però poi quando il nervosismo si fa bene e giochiamo soprattutto con squadre che sono più forti di noi o più organizzate abbiamo questi problemi. Speriamo allora nelle prossime partite la qualificazione come ancora, è tutta da giocare quindi No, sì, in Champions speriamo di arrivarci, però dobbiamo sicuramente cambiare il registro perché altrimenti non ci arrivano sicuramente. Bene Flavio, speriamo bene, in bocca al lupo. Grazie, ciao. Grazie.